Carlo Fontana di Idrobase, intanto le chiedo di presentare la sua azienda. Buonasera, io rappresento Idrobase Group, un'azienda di Borgo Ricco in provincia di Padova, una media azienda che opera in tutto il mondo, esiste già da più di 30 anni, come azienda che si è inizialmente specializzata nella produzione di idropulitrici e ricambi per idropulitrici, con il passare degli anni abbiamo sviluppato altre linee di prodotto, lavoriamo in più di 120 paesi, quindi siamo presenti in tutto il mondo. Oggi ci troviamo nella lounge hospitality del Bentegodi, come mai siete qui? Siamo qui perché grazie alla collaborazione con Ellis Verona abbiamo sviluppato una macchina apposita che si chiama Safeplay in collaborazione con uno dei nostri partner Smart Kiosk questa macchina in pochi secondi permette di sanificare i palloni senza doverli lavorare con le mani e poi sono pronti e disponibili all'uso sotto la macchina. È un prodotto che pensiamo abbia delle grandi potenzialità, vista la situazione non solo in Italia ma in tutto il mondo con il Covid, speriamo che questa collaborazione si svilupperà anche in altre direzioni. Poi siete molto attenti al mondo dello sport, ci sono anche tanti altri prodotti che l'idrobrase crea per il mondo dello sport e del calcio in particolare. Qua al Verona ne usiamo anche un altro, mentre in Corea un sistema all'avanguardia che forse per l'Italia è ancora prematuro ma che magari ci dà un po' di fiducia per il futuro. Certo abbiamo con LS Verona, abbiamo collaborato anche con l'installazione di alcune macchine sono i generatori di elettroni, in realtà sono delle macchine che producono una coltre di ioni che vanno a distruggere i virus sulle superfici, negli ambienti di dimensioni ovviamente contenute. Stiamo utilizzando una nella nostra sala stampa, no? Sì, ce n'è una nella sala stampa, so che ce ne sono altre installate. Sono delle macchine in cui stiamo facendo molti lavori in tutta Italia e non solo. Lei citava lo stadio di La Corea dove grazie alla cooperazione con il nostro distributore locale abbiamo implementato un sistema di sanificazione e raffreddamento con l'uso di fog makers nello stadio di Seoul che ha anche aiutato alla riapertura, all'utilizzo dello stadio anche in queste condizioni di pandemia. Ovviamente le regole coreane non sono delle regole italiane stiamo lavorando per capire in che modo possiamo essere utili anche allo sport in Italia. Quindi oggi insomma si può guardare LS Verona a spalle in totale sicurezza? Assolutamente sì. Assolutamente sì.